Devo andare? No, aspetta, ti prego. Non posso davvero, scusami. No, non te ne andavo, aspetta. Dai, dai, calmo, calmo, su. Ti stiamo chiudendo! Non ti chiude, non ti chiude! Titti, fammi uscire, fammi uscire! No, no, no! Guarda, guarda! Fermate il film! Non ti può fare da vicino a me! Faccio andare le luci! Ti devo trovare un modo per uscire, fammi uscire! Fisica, aspetta qua, aspetta qua, non ti può fare da vicino a me! Non ti muovo! Mamma mia, non la vuole da qua, la vuole da qua! La vuole con me! Tu che sei! Volete sempre! Non ti provo! Non ti auguro da qui! Ti prego, dici, non mi aspetto. la seconda porta a destra è un scena di sicurezza devi uscire da là capito? va va chiudi la porta vai a chiudere così non entra nessuno va va Titi